Intanto i complimenti a Forlì soprattutto nella seconda parte della partita per averci messo in grande difficoltà. Avevamo preparato una partita avendo l'idea di tenere bassi ritmi, di sopperire la mancanza di Allegretti con delle rotazioni particolari che potessero mettere in difficoltà a volte il mashup di Forlì. Nel primo tempo, escluso forse la parte finale, siamo stati bravi nel mettere in difficoltà Forlì. Poi siamo rientrati al terzo quarto e la grande intensità difensiva di Forlì ci ha mandato fuori giri. Non siamo stati lucidi come ci è capitato anche in passato nel gestire i possessi soprattutto nel momento in cui c'era grande pressione sulle nostre guardie. Chiaramente il terzo quarto è stato decisivo, il parziale di 22 a 10 poi ci ha spezzato le gambe e non siamo mai riusciti a rientrare. Dobbiamo prendere subito tesoro di questa cosa, c'è poco tempo per allenarci chiaramente ma dobbiamo essere pronti per domenica per cercare di fare il nostro meglio per fronteggiare l'aggressività di Forlì che chiaramente in casa è spinta anche dall'entusiasmo di questo grande pubblico e quindi trova ancora più energie. Noi dobbiamo essere bravi a non andare in ansia perché abbiamo dimostrato nell'arco delle prime due partite, penso anche per grande parte del primo e del secondo quarto, di poter competere con Forlì. Chiaramente penso che la nostra qualità a rimbalzo nelle prime due partite nasceva soprattutto dalla qualità dei tiri che prendevamo. Forlì è stata più brava soprattutto nei momenti clou a sporcarci i tiri e a farci tirare sempre fuori ritmo e quindi non eravamo mai ben posizionati per andare a rimbalzo. Poi sono stati anche molto bravi a fare taglia fuori sul mortellaro che fino adesso era stata una chiave della serie. Hai la prospettiva di recuperare Allegretti per Gara 4? Stiamo cercando di fare di tutto con il fisioterapista, mi auguro di averlo per Gara 4. Credo che dobbiamo stare tutti con lo stesso profilo molto bassi, dal presidente che è numero uno all'ultimo dei tifosi perché solo con l'umiltà si porta a casa il risultato. Abbiamo vinto solo un primo tempo, il secondo tempo si giocava domenica. Per fare qualcosa di veramente serio dobbiamo vincere la partita di domenica. Siamo stati un po' soft in Gara 2, siamo stati molto soft nei primi due quarti e qua in casa nostra. Mettiamoci anche una parte di paura, ci sta voglio dire, non siamo macchine. Però la nostra identità è quella di difendere a muso duro, faccia a faccia, senza tanti ricami. La squadra è venuta fuori nel terzo quarto ma non è sufficiente perché non mi fido di una squadra che ha tanti tiratori, che probabilmente recupererà Allegretti, che sicuramente avrà un Golden che ispirerà tutti gli altri compagni. Sono giocatori che non mollano, altrimenti anche l'allenatore dell'altra squadra avrebbe fatto cambi diversi alla fine e quindi sarà una partita da prendere non con le pinze ma veramente con i guanti perché basta, si è visto anche nel finale, basta che per un attimo perdiamo la concentrazione, perdiamo il filo, perdiamo il ritmo, non siamo più la squadra che dovremmo essere. Invece domenica dobbiamo fare un secondo tempo, lo ripeto, un secondo tempo perché oggi non abbiamo fatto niente, che sia come vogliamo noi. Poi se gli altri sono più bravi sarà un altro discorso, però dobbiamo partire da noi, dalla nostra difesa, dal fatto di cercare molto di più i lunghi, dove abbiamo qualche centimetro in più, sempre che Allegretti non giochi e quindi dobbiamo partire da queste robe qua, se no tutto quello che abbiamo fatto stasera serve a poco. Loro sono una squadra che ti mette in difficoltà perché gioca appunto con quattro esterni praticamente, un lungo molto alto, molto agile e soprattutto un grande ispiratore di gioco come è Golden. Non è facile, non è facile. Oggi credo che Ogo abbia fatto una buona partita, però anche lui non è Superman, dovrà fare i conti anche lui con le sue energie e tutti gli altri dovranno dare un quel 10% in più, perché sicuramente abbiamo dei giocatori anche noi molto stanchi e non in perfette condizioni. Quando ho potuto ho cercato di toglierli perché sapevo che questo vincendo è un primo tempo e domani e fra due giorni avremo gli altri il secondo tempo. Passiamo la palla, anche un giocatore medio diventa bravo, se non ce la passiamo i giocatori medi diventano mediocre e questo chi ha più talento lo deve tenere ben in testa. Anche perché se non ci crediamo adesso tra di noi, alla fine dell'anno, della stagione, cosa facciamo? Saremo un po' sciocchi e non vogliamo esserlo.